E' da tanto che non ci entro dentro Brookhaven, vediamo cosa succede qua dentro Vediamo un attimino come poterci divertire all'interno di questo gioco che ho una pattumiera Vai, Brookhaven RP Senti la canzoncina, vado che ricordi Senti, 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 senti Mi manca un po', mi manca un po' Non vi nascondo che mi manca un po' Brookhaven Allora, ragazzi, vediamo com'è la situazione qua Ah, vedo dei Maranza che stanno... E' un gioco, fra... E' ovvio Ok Quante siete alti, Regis? C'è la gente che la prende sul serio Ma di che ci sta parlando? Tutto smonco, ma come si muove? Di cosa ci stanno parlando questi due? Scusate Ti giuro, fra... Ma parlano solo col fra? Beh, anch'io in realtà lo faccio, non posso... Non posso... Ma sono uscite robe nuove Vip? Cosa? Il vip di Brookhaven! Ci faccio il video, ma cosa fa? Voglio comprarlo Well, axiao, boh, a caso Ma poi gli fa ridere tipo il modo in cui Tipo... Loro praticamente si atteggiano da criminali su Roblox Appena ti vedono... OMG! Poi fanno le emote proprio che si bagnano tutte le mutandine con la... con la pipì Ma non serve a niente, è possibile Il vip è andato a buon fine Ma a che serve? Scusa Solo saluto, ciao! Ah, spunta solo vip? Mi fa flexare e basta? Cosa vuol dire? C'è la descrizione No wait time for... Ah! Wow! Che figata! Quindi posso cambiare adesso le case sempre Tutti i veicoli futuri e non futuri I veicoli li puoi respawnare molto prima Greve! Posso spawnare due macchine ora Nello stesso momento Vip props Ok Cosa? Effetto arcobaleno nel nome What the f... bro! Devo assolutamente provare questa cosa Come si fa? Nome RP? Eh... Nome RP Xiao Oddio! Che figato il fade così! No, questo è più bello Che figata la fade così! Ma è bellissima! No, vabbè E poi cosa? Ah, qua non c'è niente Immagino Ah Hai capito! Con la corona adesso! Ma comunque è mille robux C'è 10 euro costa sta roba 10 euro zio Madonna Ma sono un botto di soldi Comunque raga Vi posso dire una cosa So che sembra una paraculata Raga Mi credete se vi dico che mi manca Roblox Mi manca proprio giocare a Roblox E tipo passarmi le giornate qua Non so perché Allora vediamo Mi manca proprio Non so spiegarvelo C'è Quindi io posso spawnare adesso due macchine se voglio Ah Aspetta Non è che non aggiunge niente C'è un sacco di roba Allora tipo questa E poi questa Per favore aspetta No zio Ma cosa stai dicendo? C'è io me la posso chillare così? Io posso mettermi così a flexare quello che... No 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 Un attimo eh Un attimo! Sta arrivando la polizia la sentite? C'è io posso mettermi a flexare le robe così? No zio ma che stai dicendo? Fammi... Boia Faust Ma poi la Batmobile È quello eh Mi Fammi alzare il volume un po' Andiamo nella mia casa 34 Al solito Anche perché voglio vedere tutti i props E tutte le cose che hanno messo Che figata però Sta cosa che si possono mettere due macchine Zii È fighissima questa roba raga Eh... Non mi ricordo come si andava però a casa mia Vabbè facciamo così direttamente va Casa... No non era 34 Sì 34 Quella sud Quella sud Ok Stiamo sicuri che... Sì è questa Sono le case VIP No! No no ok sono sempre quelle le case Vabbè mettiamo la casa... Oddio ma questa? Questa non l'ho mai vista io Da quando è che l'hanno messa? Scusatemi Ma che è la casa bianca? President Bruchet Cosa? Ma è la casa bianca? Ah c'è da un botto Vabbè allora voglio la casa cillante Non voglio questa Come si toglie? Non me lo ricordo più Perché non me la fa togliere raga? Come si cambiava casa? Perché non me la fa... Perché non me la fa cambiare? Ah qua ok Ci ho perso la mano vedi? Eccola la casa... Vado raga! No raga vi giuro troppi ricordi Però per essere bella precisa Per essere bella perfetta Per essere bella perfetta Si deve fare questo Devo trovarla però E' qua in mezzo Senti 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 E' lei raga Bellissima Allora fammi capire una roba Fammi capire una roba Quali sono i props? Fammi rivedere Ma non è che se ti vesti l'amaranza Ti faccio entrare? 3, 2, 1 Bannato Scusami Devo lavorare io Perché non posso bannarlo? Raga Ok Eeeh Allora Eeeh Non capivo Ero un mortale Allora Vediamo i props Quelli da VIP Però fammi capire quali sono Scusa Ma non li vedo Come faccio a vedere quali sono? Quelli da VIP Ah ok Che non ti fa bannare le persone E' un bug Eeeh ma vorrei capire quali sono i pass Cioè I In tutte le categorie In che senso? Devi vedere in ogni categoria Eeeh ma come faccio però a vedere Quali sono quelli VIP? Cioè mi li Ah è Ci hanno messo la minigun Hanno messo la minigun nel gioco No vabbè No vabbè Questa cosa è incredibile E questa? Non mi direi che la posso prendere zio No Ah no Ok Solo per metterla tipo Se vuoi fare tipo un castello O cose simili Figo però Ok Poi Eeeh Tende no Animali Immagino di no Ho chiuso tutto per sbaglio No Ah no si Cos'è questa? La vaschetta tipo Di pesce Madonna Ma è un acquario Enorme Bellissimo Bellissimo Si hanno aggiunto gli animali Ma da un po' già eh Da qua ovviamente no Per la casa Niente Uguale Soldi Uguale Questo è il cibo Non c'è niente ovviamente Segnali Cosa stradali No Che è sta roba Ma che è per creare tipo i circuiti Ma è l'alettone della macchina zio Qui sono i motori Sono tutti pezzi delle auto Tipo Se vuoi creare un'officina Tutto scomposto eh Che figata Puoi cambiare le macchine Cosa In che senso Mi stai dicendo che posso mettere un Non posso mettervi sulla mia auto No Ma che sta succedendo là fuori Non è possibile Non può Cioè dai Non ci credo Aspetta Fammi capire un attimo Aspetta un attimo va Tutti i props Stanno nell'auto Ma non ci credo Sì Fammi capire Ok Io metto la mia macchina No Poi Vado sui props Prendo tipo l'alettone Ma non Si mette Ma Ma lo devo mettere giusto io però Ma una vita ci vuole Così Non riuscirò mai A metterlo dritto Forse No no E' messo male Sono storti E' un po' più alto Però in realtà Andava messo Tipo Non è possibile Posso modificare Se tipo Faccio la macchina viola Mi stai dicendo Che lui No zio Ma questa roba E' una droga Io non ci credo Che questi qua Di Brookhaven Hanno fatto veramente Questa roba Sì Non è possibile No ma non volevo Cioè C'hai capito zio che ho un alettone Nell'auto Ma stai scherzando? C'è ho un alettone Nell'auto Su Brookhaven Ciao cugino Stai reccando? Tu non hai capito Altro che sto reccando Angelo Brookhaven È diventato Incredibile Hanno messo Il pass Vip E puoi personalizzare Le auto Con i motori Con gli alettoni Puoi crearti Un'officina Io Boh Sono appena uscito Da una sclerata enorme Io sto reccando Comunque Sì ok Ok E va bene Allora io Faccio un po' di Juice Chooting Ma tu vuoi ancora Giocare a Fortnite? In caso Ora vediamo Tra poco Poi appena finisci Roblox in caso Sì Va bene Va bene Ciao 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 No zio E' la cosa più bella Del mondo Questa E' bellissima Questa cosa Boh Quella mi sta insultando Secondo me Ok Poi qua non c'è nulla Qua neanche Qua neanche Vabbè le scatole No Ma quanta roba c'è Raga Aiuto Non mi ricordavo Così i props Cosa cerchi Vattene Cerchi Vabbè Cerchi tutto la vaglio Cerco Scusami Non voglio Tipe Che Scorreggiano Ciao Mi dispiace Che cerchi Fida Ti stai cagando Addosso Levati da sopra Che stai facendo Una figura Di E ancora Boh Cagati addosso Vedi che devi fare Zia C'è veramente Oddio Ma c'è il play button Vabbè Quello c'era già In realtà Non lo ricordavo No ok Sono tutte queste Le cose VIP Mi sa Ok Bello però Fighissimo Raga Tutte queste cose nuove Che si possono fare Cioè Scusatemi raga Non volevo Frienzonarla Ma ho capito Questa arriva Dici cerco fida Si caga addosso Tutto il tempo Cioè Avrei una domanda Ma c'è la schien Guarda che non c'ho La lebra eh Mi posso avvicinare Dimmi No ma non ho capito Ma mi stai prendendo In giro Scusami Luna Hai una domanda E te ne vai Cosa ho La scabbia Ah Vabbè Oh Vabbè ho capito Ma la banno Perché non mi hai Accetato L'amicizia Comunque Ragazzi Veramente fighissima Questa roba Di Brookhaven Che hanno aggiunto Voglio sicuramente Farci di video Fatemi sapere Se l'avete preso Questo pass Se non l'avete preso Io sicuramente In questi giorni Tornerò a chillare Quindi se vi collegate di notte Sicuro mi beccate All'interno di Brookhaven Noi ci vediamo Al prossimo video Spero Spero E vi provo Prometto Che cercherò Di essere più costanti In questo canale So che non sto caricando Un video al giorno Ed è terribile La odio questa cosa Come odio il fatto Che io abbia un barbone Per vicino E non è normale Visto che Roblox Dovrebbe dare priorità A Enricchi Non scherzo E ci vediamo Alla prossima Speriamo domani Speriamo domani Ciao ragazzi Vi voglio bene Bellissima questa cosa Raga davvero Davvero